fratelli e sorelle pace del signore buona giornata a tutti quanti voi dio benedica la vostra vita vogliamo ringraziare il signore con tutto il cuore per la sua bontà per la sua misericordia lo ringraziamo soprattutto per questo giorno che ci ha dato e per cristo gesù che ha il nostro fianco e che vive e regna nella nostra vita vi invito a leggere insieme a me un verso che si trova nella epistola di giuda mi riferisco al verso 1 dove lo scrittore ispirato dallo spirito santo scrive giuda servo di gesù cristo fratello di giacomo ai chiamati che sono amati in dio padre e custoditi da cristo gesù e in questo verso vengono date tre definizioni dei credenti ognuna delle quali sottolinea tre momenti e tre aspetti dell'opera della salvezza i credenti infatti sono innanzitutto chiamati cioè sono persone interpellate da parte del signore per ricevere da lui un invito tutte le storie che sono narrate nell'antica nel nuovo testamento ci mostrano come la chiamata che il signore rivolge sempre personale profonda potente personale perché il signore non parla alla massa ma al singolo individuo o con tutti i suoi problemi e in relazione alla sua storia particolare profonda perché il signore nel chiamare chiede che venga fatta una scelta radicale potente perché è una chiamata che è accompagnata da un messaggio di salvezza di liberazione dal peccato dalla schiavitù del peccato ma anche da tutto tutto il resto che rende pesante il corso della vita di ogni persona e dio sia lodato perché il signore rivolge ancora oggi questa chiamata ad ogni uomo ad ogni donna io spero che tutti quelli che siamo ora in ascolto non solo abbiamo ricevuto questa chiamata ma abbiamo deciso di dar seguito a quello che alla chiamata che il signore ci ha rivolto iniziando ad andare dietro a lui spero che abbiamo deciso di rinunziare a noi stessi di prendere ogni giorno la nostra croce di seguirlo lungo la strada che egli ha stabilito perché poi questa è la volontà di dio che noi giorno per giorno camminiamo lungo la via che cristo ha tracciato perché egli è la via la verità e la vita i credenti non solo sono chiamati ma sono anche amati in dio padre e questa realtà delle volte la trascuriamo oppure ce ne ricordiamo soltanto i momenti di gioia o di benedizioni però il testo che abbiamo letto usa il presente cioè i credenti sono amati e oggi in modo costante senza alcuna interruzione dal loro padre celeste perché lui li cura li sorveglia li conduce per sentieri di giustizia e dobbiamo ricordarci di questo perché certo ci sono i momenti in cui godiamo di benedizioni straordinarie lì è facile dire il signore mi ama ci sono i momenti in cui otteniamo la vittoria in cui veniamo liberati da situazioni difficili lì è facile dire dio mi ama dio si prende cura di me dio al mio fianco è più difficile quello richiede un passo di fede dirlo quando invece ancora la liberazione non è arrivata la vittoria è lontana le circostanze sono avverse ci troviamo nella valle dell'ombra della morte stiamo attraversando le acque il fuoco sta divampando intorno a noi beh in quei momenti quando l'avversario arriva e cerca di farci dubitare delle cure dell'amore del signore vogliamo dire le stesse parole che gesù disse vai via da me satana perché tu mi sei di scandalo tu mi sei di intoppo tu mi vuoi far cadere ma io non voglio cadere io voglio continuare a confidare nel signore e ad avere fiducia che lui secondo la sua promessa interverrà ed opererà e nel volto di coloro che confidano nel signore anche quando devono attraversare queste circostanze avverse non c'è mai delusione perché al momento giusto egli arriva e se tarda aspettalo perché per certo verrà e non tarderà sì fratelli e sorelle siamo amati dal signore siamo amati nel signore se la nostra fiducia in cristo e se abbiamo risposto in senso positivo a quella chiamata che c'è stata rivolta e infine i credenti sono custoditi da gesù cristo colui che li ha riscattati dal peccato dal male è pronto a proteggerli da ogni insidia e questa custodia inviolabile nessuno può aprire il pugno del signore per farci cadere dalla sua mano perché egli ci custodisce in modo geloso perché egli è un dio geloso ed egli non permetterà a niente a nessuno di scalfire la nostra vita soltanto noi dobbiamo continuare ad avere fiducia in lui nelle banche ci sono le cassette di sicurezza dove le persone mettono le cose preziose per evitare che possono in qualche modo essere rubate da parte dei ladri nelle loro abitazioni la mano del signore è più di una cassetta di sicurezza perché essa è chiusa e la chiave che l'apre ce l'ha soltanto il signore gesù e quando lui chiude nessuno può aprire e quando lui apre nessuno può chiudere e allora se in questo momento ti trovi in situazioni che ti stanno mettendo paura ecco fai cessare la paura della tua vita basandosi sulla basandoti sulla promessa del padre che tu sei custodito in cristo e che egli non permetterà a nulla e a nessuno di farti del male perché tutte le cose che avvengono cooperano per il bene di quelli che amano e temono il signore e se è vero che delle volte come giuseppe ci troviamo ad essere venduti come schiavi anche dai nostri fratelli se è vero che delle volte veniamo dimenticati nel fondo della prigione anche da parte del coppiere è altrettanto vero che dia un piano e il suo piano è quello di farci un giorno regnare non alla corte di faraone ma nell'eternità insieme a cristo e gesù e a tutti i suoi santi perciò coraggio andiamo avanti perché siamo stati chiamati perché siamo amati perché siamo custoditi e la nostra fiducia è sempre solo nel signore gesù cristo che è benedetto in eterno che la grazia la pace l'amore alla presenza di dio ci accompagni ancora oggi dio ci benedica insieme